Salve a tutte, oggi vorrei provare un piccolo esperimento, ovvero la prima audio recensione. Non voglio annoiarvi con il mio viso, dunque ci saranno le immagini dei libri e del film di cui parlerò e la mia voce sarà solamente di accompagnamento. Visto che abbiamo appena iniziato il 2011, volevo fare un piccolo consuntivo dei libri e del film che più mi hanno emozionato e colpito in questi ultimi mesi. Comincerei da Christine Fian. Christine Fian ha esordito in Italia da qualche mese, finalmente era molto attesa. Io vorrei parlarvi del volume della Leggereditore, che riunisce insieme la novella Magia nel vento e il romanzo Oceana di fuoco. Un romanzo molto molto bello, in particolare Oceana di fuoco, anche perché essendo più lungo rispetto a Magia nel vento, che è semplicemente una novella, ha la possibilità di farci entrare completamente dentro il mondo delle Drake Sisters, perché questa serie è appunto incentrata su sette sorelle che hanno dei poteri sovrannaturali, che sono di media potenza se presi singolarmente, quando tutte e sette sono insieme diventano invece di grande potenza. Cosa dire del romanzo, o meglio della trama? Non vorrei dire molto, sicuramente avete già letto molto su internet, su altre recensioni che sono state scritte. Direi che quello che colpisce maggiormente è la capacità che ha la Fian di entrare veramente nei personaggi, di rendere anche la storia più improbabile e l'eroe o l'eroina più improbabili assolutamente reali, come fossero delle persone che potremmo incontrare per la strada. Questo nonostante una trama abbastanza complicata, dove succedono diverse cose, dove ci deve essere anche una certa sospensione dell'incredulità, perché appunto stiamo parlando sempre di poteri magici o similari, di intrighi, di Interpol e via discorrendo. Io credo che chiunque l'abbia letto sia sicuramente innamorato perlomeno del protagonista maschile, che è Alexandro, sembrerebbe un tipico eroe alfa, quindi molto forte, molto dominante, un po' prepotente, che è stato in passato assolutamente senza scrupoli e senza emozioni per il suo lavoro, ma che nell'incontro con Abigail, che è la terza delle sorelle Drake, è quella forse anche un po' più riservata, dato che ha passato buona parte della sua esistenza o all'interno della famiglia o comunque dedicandosi ai delfini, visto che il suo potere è oltre a saper discernere la verità, anche quello di poter comunicare con i delfini. In qualche maniera lei è un po' reclusa, una che non si vuole gettare nel mondo, eppure attraverso l'incontro con Alexandre, che è il suo vecchio amore perché all'inizio del libro lei è fuggita da lui e dalla Russia, cambierà non completamente ma in buona parte, ci sarà una grossa crescita di entrambi i personaggi e la chimica, l'attrazione, questo sentimento è palese veramente fin dall'inizio e la fin riesce a portarlo convincentemente fino alla fine, a farlo sviluppare in una maniera totalmente credibile e profonda. Insomma, veramente una lettura che vi consiglio, nel momento in cui si chiude il libro si sospira, si vorrebbe che continuasse, soprattutto si aspettano i volumi successivi. L'unica nota un pochino diciamo stonata, forse è che è difficile tenere un po' dietro ai tanti personaggi secondari che ci sono nel romanzo, che sono tantissimi ma è anche normale perché è un po' la preparazione per quella che sarà la serie. Ma a parte questo, piccolissimo appunto, un libro veramente molto molto bello. Secondo libro, un'autrice che non ha bisogno di presentazioni, Mary Balog, e si parla di Signora del suo cuore. È uscito un paio di mesi fa a novembre nei volumi Oro della Mondadori. La storia è presto detta per chi non l'avesse letto. La Sartina Jane interrompe è un duello dove il duca di Thresham, Jocelyn Dudley, sta difendendo l'onore di una signora. Visto che, a causa di questa interruzione, lui rimarrà ferito, diciamo un po' per punire la servetta, la obblicherà a fargli da infermiera. Sembra una trama liperli banale, come spesso sono quelle di Mary Balog, dove non succedono grandi avvenimenti, perché quello che accade in realtà è sempre tra i protagonisti, nel loro cuore e tra di loro. Un libro bellissimo, ci sono dei dialoghi meravigliosi, ci sono due personaggi fantastici, un'eroina veramente forte, combattiva, con la lingua puntuta, un eroe forte, deciso, sardonico, in apparenza, in realtà un uomo che ha tante ferite, che in fondo sta aspettando l'occasione per aprire questo cuore che pensava di aver dimenticato da qualche parte, forse in una soffitta delle sue tante maggioni da bambino e che non aveva più utilizzato quando anche se lo fosse portato appresso. Credo un romanzo, benché sia molto corto, in realtà è molto denso, denso di emozioni, di sensazioni. Lo consiglio veramente a tutti, a chi ama la Balog, ovviamente a chi non l'ama, perché leggendo questo forse si potrebbe ricredere, pieno dei momenti poetici, pieno dei momenti in cui il tempo si ferma e c'è l'assoluto di un'emozione a volte improvvisa, inaspettata, della condivisione. Se non l'avete letto, leggetevelo, chi l'ha letto, se lo rilegga, fa sicuramente bene al cuore. Terzo libro, una sorpresa, ed è Io e Trixie di Dean Koontz. Dean Koontz è un famosissimo autore di thriller, quindi non mi aspettavo che scrivesse un libro del genere, è dedicato alla sua cagnolina che purtroppo ora è morta, che si chiamava Trixie ed era un golden retriever. Questo libro in qualche maniera ricalca un po' il famosissimo Io e Marley, anche se poi prende una strada completamente diversa, perché chiaramente Dean Koontz è anche uno scrittore dallo spessore differente. Al di là degli episodi che vengono narrati e dal fatto che magari chi non ha un cane o un animale può non essere interessato, io comunque lo consiglio, perché in realtà partendo dal rapporto con questa cagnolina, lui fa una riflessione sulla vita, sui rapporti tra le persone, sul significato che dobbiamo dare alla ricerca che noi facciamo tutti i giorni, volontariamente o involontariamente, della felicità, di qualcosa che riempie la nostra esistenza. Ci sono pagine bellissime in cui si narra quello che è successo all'interno della famiglia, che era composta solamente da marito e moglie, ovvero Dine e Gerda, che improvvisamente attraverso l'incontro con questo essere a quattro zampe hanno dovuto rivedere quelli che ritenevano dei punti assolutamente intoccabili della loro esistenza, mettersi in discussione, mettersi in gioco, avere anche un'apertura maggiore verso gli altri, anche la disponibilità a soffrire e considerare la sofferenza una parte della vita, non qualcosa da evitare, ma invece qualcosa che fortifica e che è necessario. Molto bello, molto commovente, molto profondo, quindi lo consiglio anche a chi non ha degli animali. E per terminare un consiglio cinematografico, vorrei parlarvi di un film che è uscito diversi mesi fa, ma cui onestamente continuo a pensare nonostante appunto sia passato tutto questo tempo. Si tratta di Inception, di Christopher Nolan, protagonista di Caprio, che sarebbe un estrattore, ovvero attraverso i sogni si insinua nell'inconscio delle persone per rubare dei segreti industriali. La trama è complicatissima, è difficile farne un riassunto senza svelare, ma non è neanche importante sapere quello che succede, perché è un sogno dentro un sogno, dentro una fantasia, un'architettura incredibile con delle immagini di grande potenza, soprattutto delle immagini che rimangono dentro, perché ci sono tantissimi livelli di lettura. anche qui una riflessione sul senso della vita, sul senso dell'amore, su cosa sia veramente importante, su cosa dobbiamo fare, su dove dobbiamo andare. Tutto questo diciamo in una cornice che sembra spettacolare, ma rimanda a dei discorsi molto complessi. Un film che è un po' a metà tra Apri gli occhi di Alejandro Amenhabar e anche un pochino Strange Days di Catherine Bigelow. Tutte e due questi film insieme, qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa di mai tentato prima. Vedetelo, potrebbe anche non piacervi, sicuramente non vi lascerà indifferente. Credo che a breve uscirà il DVD, procuratevelo.